La storia di Amanda. Dove eravamo rimasti? Amanda, bella e ricca, è la figlia del potente Gregorio Sabater. La figlia di Gregorio Sabater è la donna più ricca di questo stato. E non può commettere errori. A sconvolgere il suo perfetto mondo di certezze, arriva Andrea, un uomo dal passato oscuro. Sono la donna più fortunata che ci sia al mondo. Dopo essere stata abbandonata sull'altare del fidanzato, Amanda cerca di reagire al grande dolore che prova con l'aiuto di Andrea. Sei lì nascosta dietro a quegli occhi spenti. Credevo di non essere più capace di ridere. I due giovani si innamorano, ma il destino li separa e finiscono per sposare entrambi una persona che non amano. I miei migliori auguri agli sposi. Giovanna e io siamo marito e moglie. Consapevoli di aver fatto un grave errore, tornano insieme e dopo qualche tempo, Amanda scopre di aspettare un bambino. Tu sei tutto per me, Andrea. Se sono davvero incinta, che cosa farò? A causa di una serie di eventi, Andrea lascia Rio Grande. Voglio vivere lontano dagli uomini, a contatto con la natura. Per farvi ritorno dopo due anni. Amanda, non riesco a dimenticarti. Sei tornato, sei vivo. La storia di Amanda Per farvi ritorno. Olvido